Edoardo Donnamaria è nel cast del Grande Fratello Vip? Cosa sappiamo della sua famiglia d'origine? Qui tutta la verità! Edoardo Donnamaria è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip Chi sono i suoi genitori? Andiamo a conoscere meglio insieme tutta la verità in merito alla famiglia d'origine di questo vippone Leggi anche, Daniele Dal Moro, età, fidanzata, Martina Nasoni, padre, uomini e donne, scelta Gf, che lavoro fa, perché è famoso, Instagram chi è il padre e la madre del concorrente del Grande Fratello Vip? Edoardo Donnamaria, concorrente del Grande Fratello Vip, è nato a Roma, città dove è anche cresciuto, nel 1994 e oggi ha 28 anni Chi sono i suoi genitori? La risposta a questa domanda è avvolta dal mistero Molto riservato, non ha voluto rendere pubblica nemmeno la sua data di nascita completa, il giovane vippone non ha mai parlato delle proprie origini Ciò che sappiamo di lui, lo apprendiamo delle sue apparizioni televisive E si tratta di una carriera mediatica sbocciata oramai da qualche anni e forse pronta alla consacrazione definitiva anche grazie all'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Tutta la verità sulla sua famiglia d'origine Edoardo Donnamaria, concorrente del Grande Fratello Vip, porta con sé un grande mistero, nulla si sa, infatti, sulla sua famiglia d'origine e sono in molti a sospettare che la verità verrà rivelata proprio durante la sua partecipazione al reality di Canale 5 in onda da lunedì 19 settembre per la conduzione di Alfonso Signorini Non è la prima volta che lo vediamo apparire in tv Edoardo ha esordito, infatti, come assistente di Barbara Palombelli nella celebre trasmissione Mediaset Forum Prima di allora, teneva un blog sul mondo dello spettacolo, data la sua grande passione per la scrittura Laureato in giurisprudenza, oggi è anche speaker di RTL1025 e Radio Z Grande amico di personaggi noti come Paolo Ciavarro e Tommaso Zorzi, Edoardo è un ragazzo molto allegre e creativo e adora gli animali, soprattutto i cani A fratelli o sorelle? Come anticipato, riguardo alla sua famiglia mantiene da sempre il più stretto riservo Che l'esperienza al grande fratello vi riuscirà finalmente a sciogliere mostrando al pubblico tutta la verità? Chi può dirlo? Di certo, non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessero sopraggiungere rumors o dichiarazioni ufficiali a riguardo Intanto, potete seguirlo su Instagram qui Seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video